Seconda pallamecce per il Napoli per vincere il terzo scudetto. Dopo la beffa di domenica per 1-1 ad opera della Salernitana, sono attesi giovedì sera al Friuli contro l'Udinese. Basterebbe un punto per cucirsi il tricolore, atteso da 38 anni. Anche stavolta, come domenica, la città partenopea si prepara a vesteggiare se arriverà l'agoniato risultato, ma deve fare i conti con i friulani che non lasceranno nulla di intentato e che hanno collezionato molti risultati positivi. Nel protempo, nelle partite del mercoledì, la Lazio vince l'Olimpico per 2-0 contro un Sassuolo ma rinunciatario. In chiave europea l'Inter ne fa 6 al Verona con le doppiette di Dzeko e Lautaro Martinez. Pareggi per Milan e Roma con lo stesso risultato 1-1 con Cremonese per i rossoneri e il Monza per i giallorussi. Si rilancia la Juve 2-1 a Lecce e in chiave europea anche l'Atalanta 3-2 allo Svezia. Con la retrocessione già ufficializzata la Sampdoria perde ancora dal Torino per 2-0. Spettacolare 3-3 in Salernitana-Viorentina. Giovedì la gara degli azzurri unitamente ad Empoli-Bologna a chiudere l'ultimo turno in prassettimanale della stagione.